quindi ma baffa culo a vediamo se occhio singhiozzo dica duca ingriazzissimo hola hola ciao a tutti Luca, Sol e Lul, Sareta, Nadine, Vistorina, Carl, Foro Gamer, Andrea hi Sol e Nadine, for you in English hi guys hola Vistorina, hola Carl va con mucho lag il diretto va con mucho lag no ti ha llegato la notificazione, verda? che merda, ma cos'è? oh ui si, si tengo con mucho lag, eh? madre mia mira Víctorin, il dia che questo è il nostro lavoro te lo vamos a dire tranquillo il dia che questo sarà il nostro lavoro io, in serio, sarai il primo a saperlo ojalà abbia potuto empezzare antes ojalà solo questo ti dico no, va merda va merda a me si che piace la maniera dorata no, chicos, chicos mi va, 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 mi va mal tío esto è OBS, nuovo vedi? vale la nuova versione di OBS ha sì, esta porcheria qui dobbiamo riniziare wow, bellissimo Marco cosa è Sara? no, non so pochera hai fagiato No, dobbiamo realizzare il stream, ragazzi. Questo non è possibile. Ok, ora va, ora va. Sì. Non puoi giocare, Sareta. Ti aveva risposto quando il streamer ha off. Ti diceva che anche te, che voglia iniziare a disegnare come ti ha detto lui. Allora. Oh, Sarkino. Hola. Grazie, Carle. Oye, ragazzi. Credo che, se viene molta persona, credo che iniziamo con un'altra mentalità di streamer. Perché abbiamo bisogno di giocare un po' tutti. Quindi abbiamo bisogno di cercare come fare per giocare tutti. Sì. Non so. Alguna proposta fuori di quello normale? Hola, Keke. Hola, Keke. Io credo che abbiamo bisogno di fare stanzi a noi, come dicevamo prima. Perché se no, che non si giocare tutti. Come lo facciamo di entrare. Sì, se potrebbe provare. Questa. Va fatale o no. Fanta! Foxy! Hola Foxy o Foxier? Foxier, perdono. Hola Foxy! Foxier, perdono. Hola Foxy! Foxier. Perdono, sì. Che scatenate Si, Frank Sempre, sempre Sì, però ha pesato 20 secondi Antes di essere il stream Come può essere? Solo può tardarsi di ore Gabrielo Vuoi prendere 9 e media, no? Sì, sì Oggi molto tardi Credo che vanno a approfacciare La persona americana Nel stream Ma che cosa so Sì, lo sentiamo Perché Cosa che quando non si tiene Il orario fico di lavoro Suole impassare Quando passano, passano Chico Sì, di hecho No sabíamos al principio Ni siquiera si pone Programa Era molto fatale Quindi Jolì, come saluta questo? Che? Oh, Magnus Hello Ah, 3 o 4 Di sensibilità Come? Lo stick Ma ha delle sensibilità O Cosa dici? Frank Fate chiedere come stiamo Mamma mia Questo sta impeggiorando Invece di migliorare Buono Anche solo Si può giocare una ora E asmucho, no? Sta bene Vale, ya Empezamos Mezz'oretta Ok, Sara Minchia Non ho cambiato l'arma Un'altra volta Ma che palla Guys Sicuro che siamo noi O è YouTube Perché mi se ne va La chat Tutto Non lo so Gia Eh, chicos Questa è la ultima I Desperse In piazza Ma L'ho Privato Fatto Frank Empeziamo Listo Listo Con Lo che è Il privato Si Cucamo Si Jeffrey JT Boss Welcome How are you? JT Boss Yes Victorina Siguiente Va a ser privata Si Si Tranquilo Victor Salsi Ciao Is this True Madness Or is this Irony È vero È mago Dove è macchino Adios Gabriel Hasta otro momento Oh Gabriel Un abbraccio Il vuoi repronto Oh Madness Incredible I don't know If it's because We always do like this Or if you are If you're really Learning Spanish But you understood it Dice Madness Creo que sé Lo que estáis diciendo Que vais a Ter esta Y después Privada Mi sa Que me sen Andato El singliotto I can't watch Just wanted to say hi Lenox Hey Lenox Thank you so much Lenox Thank you so much To Paz Yeah We appreciate that Hope you You have more Availability Another time Here at ours It's really late To start the stream We're doing fine Jeffrey We had a Troubled day But we made it To the live stream So we're happy We can do The stream Ragazzi È un ritmo tropical Totalmente È un ritmo tropical We go Back Go back Go back Good game Good game Guys Good game Guys Back 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 I senti in one Ba 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 La 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 È un ritmo tropical Il codice del primo partito No Lascio senza codice Sabe Vale Yes All private battle Victorin Creo que Igual que la última vez Como estamos Bastante descontentos Con estos temas Que se nos proponen A nuestro A la comunidad europea Pues la verdad Que seguramente Vamos a jugar En privada Como tampoco nos gusta Mucho el tema Este de la separación Que se crea En el Splatfest Bellísimo Que la historia Dije Eh Que dices Verdad Eh Cuando Estaba Ay no Leto Cuando era Cuando era Al Splatoon European Festival Ah si Ah si Ah si Ah ah Bello Questo grazie a Mako Mako e qualcun altro Mi sa che è Fanta Era o Frank No no Mako Qua sta parlando di Mako Ah ok 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 Sì duca Ti aggiungerà dopo Ha già fatto la foto Mi sa Ho già messo Ha già messo Ah ok Vedi che velocità Che velocità Bye Your message But I answered you Madness I don't know If you Didn't understand me But I have to tell you Unfortunately That latin Has Nothing to do Really With spanish It's really sad Because it's the root But So So different It's more similar To german In some ways Than to spanish Sì sì Victorine Exatto Però è che Buono Mira Perché Tampoco Non si obbliga A nadie Lo splatfest Sono volontari E dico io Menos mal Che solo Sono una Vez al Mese Io Empeço A odiarlo Con Todo Il Corazón Che Tengo Sabe Ti chiedo No Se Non farai Più Spesso Minijochi Questa è Fanta Senza Come Nisiquiera le guste a le palomitas tenga que decidir forzadamente entro un tema. Per me sono temi che non invitan a incender il cervello, è dicer, per tonti. Si, si, papel... Papel, si. Papel da culo... Adelante o papel da culo dietro a tral... Molto sentito. Ma Fanta... Senza codice, sa sì. Così dice? Fanta, Jasmine, regali il tuo accento inglese, please. Oh, e Frank... E' solo exagerare, non devi fare niente altro. Frank, l'hai provato Disky Jam? Le panavine! L'hai provato Disky Jam, Frank? Jaden, hi! Welcome! Buoh... Ah, ok. Cool. You also understand... Quindi, quindi, quindi... Quando, quando, quando... Right? Because these two words, I think, are the same. Sì, Maco, lo sappiamo che è senza codice. A giugno, forse se lo compro a Fanta. Cosa? Lo Disky Jam. A giugno? Non so neanche se ci sarà più quel gioco a giugno. Sì, no? Ma quanto costa? Ma nel 2019 o 2020 di giugno? Non 2018, credo, no? Ma come fanno a poi, tipo... Mettere in scontro giochi online, ma poi nei negozi valgono lo stesso? Che senso ha? Che senso ha? E quando, quando, quando? E quando? 2018? Wow, wow, wow! Reaction! Minchia, solo è l'uno, dobbiamo fare una reaction, è vero? Chi? Oh, Sol is here, infatti! Sol is here! You're here, Sol! Maybe, 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 maybe... I touch your reaction! Oh, caffè! No, 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 no! Ouch! Mi regalano soldi con cui compro un Nintendo Cards. Ah, va... Ah! I soldi sono da caldo. Ah, 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 Frank, 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 che ti dice? Hai capito prima come si gioca? Loli! Loli! Ostra! Come? Che dices, Loli? Hai un triplo Splatfest. In Japón va a ver della compagnia Jamstack, una compagnia che studia del mar e la terra di Japone. Il tema è, prefiere i pezzi misteriosi e exotici? Noi, perché, demonio, le palomita nel culo, salate o dulce. a chi si parla di Splatfest dove hai persone che vanno a analizzare lo pezzi del mondo, eh? E noi siamo palomita. Chi chiede? Palomita o mierda? Da com'è? Il prossimo Splatfest è il pane, nutella o mierda? E pane? Un blog indignato. Los Primes! Hai! Los Primes! Che? Sare che, ragazzi, nel libro che me leo in classe pone, siamo buffi. Come ti explicas' questo? Chi è che è arrivato l'ultimo, naga? Oh maco, non puoi fare così! Sì, per questo sono gli che hanno inventato la consola, Carl, si che vogliono portare le cose positivi. Sarà patina, sarà patina! Però perché? Una prova audio l'hai fatta tu. Però perché? Sì. Sì, sì, sì. Ciao Alex! Sì, sono pronti, ma dopo questo... Ok, stai lasciando dopo questo e il mido. Non, 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 non. L'altra. L'altra, ragazzi... C'è un po' di credito che posso volare. C'è un po' di credito che posso toccare il cielo. Ciao! Oggi è il settore, sì. Oggi è il settore. Oggi è il settore. No! No, no, è l'Alex... È l'Alex simpatico. Tanto che ayer saluto a un Alex in inglese, di verità, le saluto in spagnolo. Hasta dopo non caì, che era in inglese. Matteo? Yuki? Ciao! Ciao! Oh gosh! Questo ha suonato a totalmente chiamato. Questo è il diretto più brutto d'Europa. Questo diretto è una merda. Tu uscirai da questo diretto in pochi secondi. Saretta mi chiede una cosa, mi dice... Vai caro! Saretta? Guarda, è uno che ho trovato puramente a casa, cercando così nell'App Store. E per i commenti già mi piaceva, no? Per come scriveva la gente cosa diceva. La recensione su di me? Sì. Quanto son figo! Ma non ha troppe cazzate. Nel senso non ha neanche stickers, niente. Puoi fare tre cape. Si chiama Autodesk. Te lo scrivo. Bebe! Hola! Hello, Bebe! Bebe! Questo è Sara. Autodesk? Scherzo e Wagen! Carle! No abbiamo caduto, Alex! Come abbiamo caduto? Abbiamo caduto l'altro giorno, quando non eri tu! Sì, questo sì che si potrebbe. Però, io ti ho detto, Vittori, ci piace più la unione che la separazione. Cioè, giocare tutti insieme perché abbiamo bisogno di giocare così come definitivamente un giorno un gruppo contro l'altro. Bebe! Siamo da Bebe! Che diceva? Bebe! Sassi! 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 Fanta! Sassi! 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 Se chiedere essere Mui Doc, sono una mierda di Splatfest. Se chiedere essere un pochito mas doc dello normale. Perché che mi danno una Splatfest che mi dice, ripeto, Palomita. Dai, Saneta, si può fare. Questa idea già mi sembra bella. Cosa? Cioè, tu fai la base di un disegno, me lo mandi e io te lo coloro. Così facciamo una collaborazione. No! Io voglio fare una altra. Ehi! Chi è che diceva qua? Scusate che poi si sente un botto Chi è lo youtubero qua? Voi che è il youtubero? Saretta Dobbiamo staccarci alle sue idee Ok? Io vi do l'idea e ve la fate Ho detto che non dovete sfidarvi Non ho detto che potete prendere decisioni donne No? Sì Allo Ciao 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 No youtubero, è jazz Ah, edgar, hallo Auch a te Madre mia Che sta passando Ehm Hallo, Markus Oder vielleicht auch Hallo Zu dir Uff Ma Quanto va a un anno So bene Zanahoria Edgar, na klar Kannst einfach wieder adden Du, wir mussten Ja, nicht wir mussten Wir mussten eigentlich jeden Tag Leider Leute löschen Damit wir immer mit allen spielen können Aber immer wenn du hier bist Einfach adden, ok? Und bitte nehmt es nie persönlich Auf keinen Fall Ehm 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 Isto Ehm Isto Isto Oh Dio Pizza Pazza Sulla pezza Que sta Sul pozzo Que puzza Cosa? Ehm 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 no comen cristal perché se non se corta il lecce perché la vaca lo come vidrio perché se non si corta il lecce è molto male è buono perché è un gioco di parole però è male quindi si è diventa buono Vittorin contattami in Discord Vittorin contattami in Discord Vittorin contattami in Discord por se acaso non si abbia oído Vittorin Sareta stanno chiedendo da te troppe persone già Stavo parlando in aleman Alex 2020 esce il fumetto degli igodi regia di Dog e Duca scrittura di Dog disegni di Sareta e inchiostrazione di Jess inchiostrazione inchiostrazione una nuova auto che fa biografia attenzione una nuova biografia abbiamo una nuova biografia e adesso la andiamo a leggere adesso la andiamo a leggere ora sei Splatoonik io lo chiamo Splatoonik in che idioma ah che bene ho 14 anni e sono fan di Nintendo da che ho 6 anni quando ottene mi DS Lite tuttavia tengo mi DS Lite e planeiamo guardarlo come memoria chiaro che sì mentre cresce comencei una colezione di Nintendo e un canale di Youtube di Nintendo Splatoonik junto con un servidor di Discord ora questa è una piccola storia per alcuna razione mi interessa Nintendo mi interessa altrimenti quando otteni mi review per il mio dicesimo compleanno tutto che ho avuto era un juego di Mario in alcuna maniera se l'ho curato mucho no bocca aperta claro in alcuna maniera volvi come una balla claro Splatoonik Splatoonik saletta tornata non puoi erano guardi questo questo come se con la Zelda e mi innamore di questo sempre Mario Nintendo bello bravo bene grazie grazie bene questo si me la tengo che le dire con calma però ella suona bonita è edgar abbiamo bisogno per l'anglico 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 edgar è l'anglico l'anglico un chico, eh? Te lo tengo che dire così. Seria, e se è maco, come mola? Se merece una macola. Entendete? Maco, ola. Vale. Silenzio, sepulcral. Ehi, Isaretta, dai! Buon riposo, ci vediamo domani e vediamo cosa ci do nelle nostre possibilità di fare una collaborazione. Grazie per averti comunque passato, anche se non hai giocato. Oh, Kelly, Kelly. Ah, che no, Saletta. Ah, Saletta, 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 perdonami. Eh, buonanotte. Non ti preoccupare che se hai voglia di fare qui di cose da fare ce n'è e ce ne sarà sempre di più. Quindi riposa. E niente, grazie. Grazie. Oh, e mantiene segrete, Saletta. Non lo deve sapere nessuno, eh. No, Kelly, molto spesa che snaccica però è un chico. È un chico, chico. Na, klar, Edgar. Una buona valore abbiamo getroffen. La riquesta... Oggi sono energetico. Ok. Bueno, non credo che sia contribuire ai gioi che insegniamo la cara. Quindi comunque non non ci sono i nostri plani, Alex. che squadra ti è arrivato ultimo se ne è andata la connessione proprio nel momento in cui dovevo vedere l'ultimo se ne è andata la connessione proprio nel momento in cui dovevo vedere l'ultimo quindi io farei sicuramente 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 Joy e Sassi o se ne duca come? Carl, come si va a chiamare Jaime Maco? che dici? te stai confundendo con Cuma Carl, è Cuma che tu dici Maco è italiano Doc non è risposto a che squadra ti fai? alla squadra delle donne a me piacciono solo le donne come ma guarda che merda ma cosa ha YouTube oggi? non lo capisco è che è un po' è un po' che è un po' che è un po' è un po' che 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 è un po' Ma perché tutto il mondo pensa che Marco è una ragazza? Nunca Fanta, Luca Che mi hai perduto? Non ti hai perduto nada, Victorin Al final hai accettato, no? No, ancora no Adesso posso aiutare Devo aspettare che esco a questa e accetto Sono calato già No, 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 è vero, è vero Mi finta sì di una mentira Ah sì, però l'hanno scoperto che Marco è cico Poverini Gabriele, sì Ah, bueno Creo que eso no era noticia Ah, has visto Lo que dice Victorino Es de importante Bazzucca Che set Necessitiamo acqua Agua, acqua, acqua, acqua Oh, ragazzi Oh, ragazzi Oh, ragazzi Oh, ragazzi Oh, ragazzi Oh, ragazzi Mi hai perduto Sol Sì, è nato un amore È nato Love was born Gamer love Gamer love, ovviamente Per sempre Sì, è nato un amore Ma Se lo traduzco, eh, Kaylee Marco di qua stanno dicendo Però sempre sarà il mio Marco Da parte da Kaylee Ma poi Marco, cosa vuol dire in spagnolo? Marco in spagnolo niente In catalano vorrebbe dire bello Bellino Tu quando Quando entri In qualsiasi posto, no? Un po' diciamo così Familiare A un negozio Che magari ti conoscono Qualsiasi cosa Ti dicono Ti dico Marco Hola Marco Hola Marco Hola Marco Hola Marco Hola Marco Hola Ray Sì, una ragazza è Maca? Cosa ti sembra? Ora, ora Vale Kaylee Buono 5 minuti Wow 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 Che partita ragazzi Mamma mia Guarda che partita Nell'Olimpo Your madness I don't know what What I cannot tell you to this I'm just saying that We're streaming Wow Wow Bella partita I love the kill Madness, why don't you speak Spanish? You all should motivate your people To learn other languages apart from English Allora Zero Uno Nove Quattro Come un ucciso No It's not The best Gochigang, 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 gochigang Good 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 Gochigang, gochigang Gochigang, gochigang... Good Erics第 Edg Você Sette Who said that E. I am welcome Benvenuto. Ah si, willkommen, zurück. No, er hat nur gewartet bis er den neuen room buildet, weißt du, son felti manchmal, die crashed. Si Marco, no, ma erano confusi per il nome, non so perché. Ciao Gabriele, devi andare già. Saluta Duca. Oh Duca, un abbraccio. Ciao Duchino, ci vediamo presto, presto, presto. Domani. Victorin, Victorin, le, le, per favore. Victorin. Oddio, dovevo far scroll. Vale, va bene sì. Ok Marco. Bye Sol. Tu sei andato e non ritorna più. È il treno delle 7.30 senza lui. Ciao Duca, anche da parte mia. No, non partecipo a questa. Chi? Io a questa non partecipo. È la seconda, eh? No. Con questa vado anch'io. Oh, ok. Haiiii. Primes. Tu me la hai. Sorry Enmad, sono un youtuber molto professionale per te e il tuo amico. e... lost primes, per favore. Eh? Ho scusato? No, a me piace primes. Lo piace di primes. Primes. Non primes. All world, all, 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 all people said primes. I said primes, I'm special. That's true. That's true. That's true. I... No, no, no. We know that you're not leaving. Ah, sorry. Ok, you're meaning lost. Sorry, sorry. Confusion! Slippi in my car. I didn't understand you. Guys, we would really love to see you all playing with sticks. Really, one match. Guys, turn off that motion control. Please, do it for us. As we have did for you when we turned on the motion control. Do it for us! GGG! Good game, guys! Yeah. Oh, GGG! Good game, boy! The stick is not different than the motion control. It's just more difficult to use. But it is different. Though, I think, in my opinion. Ciao, Kaylee. Hasta pronto. Que tengas un buen descanso y un buen miércoles. Oh! Oh! How many snipers are there, guys? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. I'll go, I'll go. That's... Who is it? Who is that? Fanta. Oh, my God. Why are you checking? Motion controls are better for any situation. Especially running away. I don't know this abbreviation, TVH. Of course, for people who like to run away, you mean. I'm playing Fortnite. Oh! There... You have to play with sticks, so it's not really a problem, I think. Ah, to be honest. Oh, that's a really... Thank you, Madness, as always. You're my dictionary. The best dictionary of all. Oh! 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 Zest! Swedish friend. I... Now I will remember forever that you're Swedish. Swedish. You know. Tarrapapira! Who is Igor... Jayden? Oh, but Jayden was here before. What happened? What happened? Welcome to the jungle! That is a match. Ah, Edgar. Should I be honest? No. Matteo, once again, but he was small. So I don't know if it's worth it. In the question that you are doing. Do you understand an adult or not? For me, with the game, it's a head. If I can be honest with you. No! I wanted to arrive! Eh! What are they doing? Eh! Look, the protagonist of the auto-expansion, it seems to be a calamar... Oh! And then? Who is the YouTuber, right? Is it the one that came out in the direct? Wow! Oh! Ritmo tropical! I have a river Where is your friend Prince? Where is your Prince? Prince... Hoşçak chai! Ciao Zassi! Ci vediamo presto! I'm a joke, eh! Prince, I am really a joke! I'm stupid, I'm born stupid and I think I die stupid! Non è un game spettino, se la tua squadra non è un SNAPO. Credo che il nostro chico sta equivocando. Chi? Vai vai, partai Victorin, dai! Preta, preta il bottone. Ah no, ok, ok, ok. Pass, 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 per la Fanta. Ok, sono tardi, sono tardi, sono tardi. Aspettiamo, aspettiamo. Ma devi aspettare, mi piace. La prima ronda, schade. E' l'ultimo dell'altro equipo? E' l'ultimo, chi era l'ultimo? L'altro ultimo. Sì, 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 sì. E' l'ultimo che ero. Chi spieghi? La seguita è quella che ero Victor. Ed, guarda, non si tratta, non si tratta, non si tratta, non si tratta. E' l'ultimo. Mi sa che non capiscono questo momento. Pensando che è lo stesso che uscire che gli spettatori. Oh no. Ma non è lo stesso. Perché giocano una seguente. Perché è chiaro. Vabbè, scrivigli. Ho appena detto. Edgar, tu solltest drinbleiben, dann hättest du nel nächsten gespielt. L'altro è che i stream sono un po' di fuori come all'inizio. E' un po' di cose cambiate. Ah. Schade. Ragazzi, c'è un posto libero ancora? Sono veramente euforico. Perché Matteo? Cosa succede? Chi ha ripato? Oh mio Dio. Helmand. No, cosa? Edda? Sì, ma non faceva niente neanche. Ha ripato, sei andato. Che verbi sono l'attituto del gaming? Spero poi dopo dopo. Sì, non è? Sì. 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 Victorin. E la mattina? Sì. 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 No. No Sobre il tema di essere spettatore Ci sono opinioni super partite O lo odiano O les piace Non ho mai avuto a qualcuno che dice Ah, non c'è Oh, 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 non c'è Mi encanta Tu sono matopeillas platoneras Oh, non c'è Oh, non c'è Il mio cane è andato sopraesploso Oh, non c'è 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 Il mio cane è Domino un video con la fotoloro No No Sai che Sai che bello Chiaro Le cose Cosa succede? In inglese? Perché qualcuno ha chiesto adesso? No Vai vai Non posso fare una stronta Aspetta mi devo preparare mentalmente Abbiamo No non so come esprimermi Già adesso Lo lasciamo per dopo quando facciamo tasca Niente Niente Io non lo farò Cosa non farai Frank? Il face reveal Ah vale Minchia non scherzare No ma io non penso che Sia la cosa corretta Però comunque Io la propongo Chi lo vuol fare? La contraofferta è sempre valida No? Io neanche Frank Se fossi te No ma io neanche Io non lo faccio No ma cosa ci interessa dai C'è nel senso Tu sai già cosa farò io Tra un po' Questa poi alla fine è In una maniera o altra La forma di Traviverte o no Amicizia più Vera poi alla fine Perché ti interessa Perché non ci interessa chi siamo Ti interessa poi alla fine come ti fa Giusto Stare la persona Niente Stanzate basta 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 Però io ho un'idea per i mille ragazzi Stanzate Usa Stanzate 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 Unne come Shhh Enmad You lost You lost You lost Not lost Primes Lost match Enmad Lost prime Wins Wins No? Lost prince Lost primes Primes Black Fanta Joy Quando è entrato Black? Da ora Wow Fanta e Joy Tu scende dalle stelle O re del cielo Chi è Splati? E' arrivato ieri E' quello che non si doveva dire il nome Oh Splatino Ho deciso di dire Splati Splatino? No io non posso C'è una cosa nel cervello che non posso dirlo Boy Splati come stai? Oh The two nubs together Watch please Watch Two nubs You see? The bravo team The second And the third Team bravo With the nubs Reaction E' lo facciamo Dai Facciamo questa reaction Dai Perché? Ehm Sol luna? Dov'è? Ehm Se vuoi farlo Fa la stanza Ma se non è qua? Ci sta chiedendo Ehm 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 Gli dici tu? Dai vai dimmelo Sol Yeah for sure It's a good moment to do it So As soon as you enter Arr 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 Well dude And thanks for reminding Ma eh C'è la finestra aperta A reminding Noi stiamo bene Stiamo benissimo Ma se devo gridare non posso Tu scendi dalle stelle Black Oh black del cielo Che che? Che che? Hola Voila Voila Vamos che che? Splat Zoom Behind ya Mi sa che li mancano insieme eh? Si Claramente Oh Grande lost Cantera tinto rea Good Se non lo sa Good movement Come se non lo sa E' la cascata E' la cascata Come non hai mangiato assolutamente niente? C'è Mi sa che nessuno No no? Se no Non toccato Non toccato Non toccato? Perché? Ah Non toccato E' buonissimo Come fai la pappa Coco? La pappina Ma mi sa che non gli piace sai? bene non lo so splatino non so se oh grazie Loli eres mi mi persona cultiva cultivadora cultiva cultiva cuando cultivas a alguien de la cabeza como se dice sabes hoy me antes he dicho no se ni lo que es una tintorrea y me dice Loli hoy me entre de que tintorea es un pez parecido a un tiburón ya está solucionado todo grazie Loli culturizadora mamma mia this match doesn't look good guys como te inventas un jejeje pero para el malo bo ah con chicos tiene l'aria black bo guarda el malo ci vediamo si è buono sonrìa ucch ucch bene bene mica sono stanco io oggi non mi dici, non si non si non si non si non abbiamo fatto un montone di cose poi non hai bisogno di farlo molto ok, ho scomplito un pochino dai velo, viene qua help me help me boom lost i hate you so compliant Mi spaventano in un buon mood No, no, hand mud, hand mud He's not learning to dance Mentre bevevo però Sì, è vero Oh Mano chiuso, mano chiuso Mano chiuso Sente, guarda This looks like a traditional Spanish dance they have over here Really? La Sardana? La Sardana Autocommissione Ho finito No, no, no We got lost We lost We lost We lost We lost We lost Come is possible? Ok, for one point One point One point That is not good Oh Fanta, buonanotte Congratulations Good game guys Guys, 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 guys Guys Chi è l'ultimo? Io E' Carlo Scanzali è Carlo Ciao Fanta Fanta se ne va Sì, buonanotte Fantino, a domani Buonanotte 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 Mamma mia Che tired I'm so tired Però è il rodillo che stava in vostro equip stava citando Che sia Come si fa a donare? Dice Slati Buonanotte cerca e trovi Soltanto le persone che sono realmente interessate a trovare troveranno cosa cercano esattamente ricorda noi non siamo youtuberi quindi no noi siamo youtuberi non siamo youtuber youtuberi youtuberi tu 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 mamma mia io ho un sonno che sto morendo totalmente lol citato molto forte e molto buona oh mio dio è il mard si è il mard 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 il nintendo shop il mard cosa ha scritto? cosa fate registrare? è stato ritirato il messaggio Carl, ah vale, grazie pensava che significava di fare trampa di cheat al final Edga gioca o no? allora io le devo dire il bombrello you are a son of umbrella buh, minchia come si apre si eh ma voi registrate con una vermedia no guarda noi usiamo abbiamo il gatto il gatto 60hd come scheda primaria abbiamo anche una vermedia che però usiamo quando facciamo le riprese multiple non la stiamo usando tantissimo però quando facciamo i minigiochi che abbiamo inventato usiamo le doppie regie ragion per cui usiamo avermedia più elgato però primariamente usiamo elgato perché 1080-60 frame mi piace molto 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 di più guarda che bello io dovrei dovrei cici 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 mi piacerebbe tanto usare un computer nuovo ah ok non sai come registrare io ti consiglio vivamente di iniziare se sei convinto però io ti dico in questi casi non devi essere mai convinto devi prendere subito una cosa abbastanza economica che ti dia il comfort un punto a favore e ti dico con avermedia io mi trovo molto bene anche quando devo fare video fuori casa se voglio registrare non ho bisogno neanche del computer perciò diciamo che è molto versatile come come scheda di di registrazione video poi puoi mettergli la carta dentro perciò è espandibile ti dico boh non è male e trovi avermedia a buoni prezzi ancora io la mia ha avuto la fortuna perché io vado per mercatini e cose del genere qui a Barcellona no mi piace comprare e rivendere oggetti mi piace questo roio cioè questo modo così no quindi l'ho trovata a 4 euro la la vermedia full hd a 4 euro da un da un ragazzo guarda ne mancano 3 cioè vanno 2 lui è Carl ma c'è ancora Frank Frank potresti provare su ebay potresti chiedere non solo la tua età scusa se ti dico così ma potresti chiedere a tua mamma e tuo papà di guardare su qualche programma qualche app di oggetti usati allora meglio mi contatti e ti dico la mia opinione tanto se usi discord aggiungi il server discord c'è già lui splatino no non c'è mi sa che non non so sai aspetta si chiama uguale penso di no qual è l'unica chat che funziona italiana si che è l'unica chat in discord che funziona italiana ho dovuto tradurarlo scusate scusate madonna mia quanta gente se mi viene stupido bubba interesting game wow black 25 kill chi sono gli due edgar eh marcus aspetta eh good kill max joy wait one match with me please come ormai non c'è più iron bar allora splat night è lui splat night splatino 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 ma sei su discord can i pick weapon cosa e ma non c'è lo vuol fare sì sol salt salt Sì Lili Oh Lili Oh Lili Oh Lili Oh Neni Tu non vuoi casini Io ti do problemi E' arrivata Manuela Amica nostra come stai? E spero vada tutto bene Manu Manu Come sei splendida Manu Adesso smettila Grazie Manu Non giochi, non è vero? Mi immagino, è ora di dormire Ah, ho interrompito la canzone Dock per te Questa canzone in verità è Gabri è una canzone di un cantante è una canzone di un cantante che si chiama Vasco Rossi che non mi piace molto come cantante ma questa canzone ha parlato di una chica che si chiama Gabi Gabi quindi ho adesso l'adattamento di Gabi a Manuela Noi non c'è nulla No Ti ricordi all'inizio? Ogni ragazzo aveva C'era Paola C'era Literalmente Cada Cada uno Intanto se tengo che impieserlo a trovare almeno canto un pochito Si Se loro si inspirano Qual è la mia arma preferita in Splatoon 2 Allora guarda ti dico Che mona Buonas noches Manu Che succede? Si Buonas noches Buonas noches Buonas noches guapa Canta muy bien Noли Nollemos Nollemos Spero a niña Scendo a os Scendo a os Quella è la mia arma preferita E otto E otto Ah E' strano Che dice Stati Qual è la tua arma preferita Lo so Non ho la mia arma preferita Oddio Osserva osserva se osservi te ne renderai conto che oggi già sta usando la stessa arma che ieri ti da una pista no va bene mi piace tanto la hands up mi piace tanto l'aerografo mi piace tanto il marker mi piace tanto il pennello quindi queste sono le mie armi preferite via odio cecchini secchi ombrelli rulli mi stanno proprio sulle balle octor boy goda nacht si 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 edgar ma edgar ha comprato il rischi gemma edgar ha comprato il rischi gemma edgar 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 ha comprato il disc gemma edgar e E a Mark De Souza, osea... Lol. Lol. Si, Manu, te ricordas bien. Lovely, lola, cada dia io ti quiero mas. E non mi sa ancora la letra, perché mi la metto cada dia... Madre mia, che rima, mas pobre, chicos. Fea. Fea? Pobre. Esa è come di... ...de los che vendivano discos in los anni 90, piñon, esos. Perdono o no? Odioso. Stai mi su una rosa? Cosa? Ja, wir kennen uns. Octoboy, thank you so much for subscribe at our channel community. Danke, Octoboy, auch von mir. Dann wissen wir ja, wie Octoboy reingekommen ist, über dich nämlich. 100% Boa. Vieni, a serte... Ja, come se liamo? A chi? Qualcuno sei disconnesso. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Miami Beach. No? Non si dice Miami Beach? Sì. E se dice un trappero, come dice? Sì, igual. Miami Beach! No? Chi è l'ultimo? Echt? Octoboy, aber von YouTube meinst du? Deswegen sage ich ja, wenn... Wenn YouTube es denen fehlt, ist es bestimmt, weil gerade Edgar reingekommen ist und ihr in den ähnlichen Stream seid. Da dove vieni, bello? Miami Beach! Why is it always fall? We don't know. It's quite crowded. Oh, God. Oh, God. What did my mobile phone... What is happening? Carl? Creo que te... Creo que he hecho una locura. Carl, lo siento. Ha sido un pequeño accidente. Creo que he borrado un mensaje tuyo. Te he ocultado? Oh, Dios mio. Carlos, lo siento en serio, tío. Momento... Momento tragico. Tragico momento. Carl was banned by Jess. Thank you, thank you. Thank you, Madness. You even understood what happened only by my tone of voice, right? I know. Thank you. You see, you learn Spanish at the end. I knew what would happen. Splatino, Splatino. Guarda, ti dico una cosa. Ti dico una cosa. Ci sono diverse persone qua del canale che stanno dicendo... What? Cosa stanno dicendo persone sul canale? Di che? Come si dona? Come si dona? Come si dona? C'è un paio di ragazzi, no? che vogliono... Vogliono farmi uno scherzo. Si vede. Splatino. Vogliono Minecraft. Giocare a Minecraft. E loro ci giocano da tempo. Quindi, adesso cosa succede? Essendo noi un concetto di community. Giusto? Eh... Loro vogliono giocare. A me è venuta voglia di giocare. Perciò adesso... Piano piano mi comprerò, penso... Minecraft per Switch. Quindi si porteremo Minecraft per Switch. Non avrei mai pensato di dire questo. Ma per la community... È un senso... Doveroso e comune farlo. È la verità. Ciao, Edgar. Grazie a te che tu sei qui. Spero che tu sei arrivato. Spero che tu sei arrivato. E che poi funziona. Anche se credi mi che 30 euro... Mi sarei fatto la spesa per una settimana. Avrei preferito fare la spesa per una settimana di que 30 euro. E non comprarmi... Minecraft. Ma va bene. Ma Igo D.Price... Esiste già? Perché Nintendo Madness... è davvero... triste. Perché non ha alcuni amici. Sì. In Igo D.Price. Quindi... Penso che possiamo cercare... di iniziare una donazione. No? No? Io voglio comprare... un... Il vicino sta iniziando a lavorare a quest'ora. Ma siamo pazzi. Guys... Nel nostro nero... iniziare a lavorare. Che ore sono? A 10 minuti... a 12 minuti... a 12 minuti... a 12 minuti. E il nostro nero... iniziare... a lavorare. Oh mio Dio... questo sarà un lungo nero. E ora... ha lasciato? iniziare... a 12 minuti... 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 mi ha sorpreso molto... a 12 minuti... 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 è vero... eccolo... vedi... attacco veloce... già trovata la posizione... oh... e... per fare indietreggiare... che re devi... no? per fare indietreggiare... una persona con un rullo... non è una cosa facile... sì... making a person... with a roller... to go back... non è una cosa facile... a 12 minuti... one minute... more or less... to go... siamo... entriamo... proprio adesso... nell'ultimo... minuto... e viene splattata... and splattata... so... si riprende... vai... lui comunque... non ho... non ho analizzato le... le perche... quello no... non l'ho visto... we haven't... wow... wow... che movimento... wow... e va giù... va giù... va giù... grande... oh... gran gioco di squadra... eh... bellissimo... team play... e carl... e c'è carla... e c'è carla anche... e vero... oh c'è... eh no... eh no... e jadin... non ci sta... grande... grande... è un bel necio... ultimi 10 secondi... non vedremo tanto... 5 secondi... la regola del... delle trasporto... ancora uno... ce lo fa vedere... ce lo fa vedere... nooo... workshop... so... thank you so much... Sol... to show us... your... power... yes... and... we continue to play... together... grazie... Sol... that was nice seeing you... really... Proveniamo già a... farlo sa... salire... Carl... creo que lo del vecino... te ha dado las pistas... bene... Sol... we are put... right now... the reaction... 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 eh... ti ho fatto scema... eh... hai visto? si... eh... ma io pensavo che veramente... non urlare... no... eh... che non voglio gritar reaction... come puoi non gritar reaction? che sei una cosa istintiva... è come... è che... mi è piensa hasta a mi... per fare l'insusto a ellos... è un po' cruel... che potresti dare un guiño... tipo... oi... di reaction... a ver... si me preparo... però no... tu... grita... io credo che... nostro vecino... despues de 3 mesi... sta sospechando... che... hai una continu... con... continuidad... en esos gritos... di reaction... de vez en cuando... che... che... Armas in italiano usa el hashtag Escuela para Loni Grande Oh, grande Y esos videos que hacéis sobre el sigo di Carlo tiene, no? Ah? Eh, Carl, pues vendría a ser como una presentación de las personas que se han inscrito en los sigo di, solo que en ciertos puntos ha habido un pequeño overflow, no? Como que se ha habido demasiadas personas que han entrado en los sigo di y hemos perdido algunos, es decir, nos queda por hacer No, ahora, la reacción, ¿de esto está hablando? Creo que sí, no? La reacción es analizar como diferentes jugadores usan diferentes armas y nada más Y sí, nosotros la ponemos como presentation member, porque así la persona la hace bien Y nos hace comprender mucho más lo que es un jugador diferente Yo lo hago por esto, primariamente Yo lo hago por lo que es un jugador diferente Oh, yo solo, ¿sabes jugador? Tepe, hola ¿Quién? ¿Qué tepe? Tepe, hola Certo, Frank, ma Frank, era tanto que no parli, no? Frank, oh Frank, Frank Pensaba que eran todos los italianos, ¿sabes? Frank, 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 ¿sabes de hacer una partida en el disc jam? Premio, premio, punto exclamativo sí, si quieres ejecutar el comando ująco, ¿no? Ay, 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 ¿qué voy a activity? Este Frank está cuidando a Mikuló Sprint E può sfidarlo Perfettamente In italiano Mercatotano 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 Come vedi io sono molto creativa Inventandome tutte le parole Sì, è vero L'invento la reazione Ma può vedere l'anima È una cosa buona Sì, abbiamo messo in YouTube In realtà la reazione Quindi in qualche minuto Il video è disponibile Non è disponibile al momento Perfettamente, provate più tardi Grazie Ah sì, Frank È bello, no? Tranquillo, guarda Come ti sarei reso conto Lui oggi non è che È tanto l'ententainer Che cazzo stai dicendo? Tanto l'ententainer? No, che Frank è stato tutto Stato a occhi tornato Solo che dice che è stanco Quindi dico che vada tranquillo Anche qua si sta vedendo Che siamo un po' stanchi Quindi non è Oggi è live tranquilla Perché tutti sappiamo Che martedì È il peggio giorno della settimana E l'ho detto un altro oggi già Ed è vero Quindi tranquilli Ho qualcosa di strano Dai Che hanno finito le vacanze Questo è lo strano E dovete tornare in realtà I thought your stream Is ending Right now Not yet Not yet Soon But not yet Guys Nervous You have to wait The refresh of the video Because it's a full HD video So Need the time To load I'm going to refresh Guarda Ok Sono ancora a 360 Dillo Just be patient It's still at 360 It should be able In High definition After it buffers a while No? Or after it Yeah So Better Eh sì vai Già adesso 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 deve essere disponibile No Adesso è disponibile il video di sol Right now Oh no Ho mi visto altra cosa Eh ma Ah È un È un È un È un altro dia No? Andrù are ex Tanto rato fa Duck Duckie How you doing? We're a bit tired over here But fine Hope you're too Duckie duckie Allora Este de mi Que sa? Ojalá esto se tratase de mi Ok no Loli Loli Te la vamos a hacer La reaction Tranquilo Hombre si Teb Lo importante es que No la Yo creo que mientras se pueden leer los nombres bien Para diferenciar los jugadores entre unos y los otros La calidad ya basta Si va bien Si yo tengo Pero si tiene HD mejor Estamos a full HD Porque lo ves como lo vemos en la tele o mejor casi Si se puede ser Puede decir esta murrada Grabamos en full HD Full HD Con una seta que no se ferma Si tenemos un otro ordenador Hacemos lo que tenemos que hacer En live Entiendes? El mismo tema De que ni todas estas cosas en live Sabe que bonito Lo le ha comentado Lo le ha comentado Exacto Es cuando, cuando, cuando Dame tu corazón Yo siempre doy los corazones Hasta que puedo verlos Los comentarios Daré corazones Porque Ya que ponéis La gana de escribir Mira que nosotros No se Nos ilusionamos con cada comentario Prácticamente Es decir Somos muy tontitos con esto Si No se gustan más Solo comentario Che mucho mas cosa No se ha comentado Si Oh, entonces Frank Che fai Proviamo Una Una partita Hai voglia Scusami No, no No, no Yo estoy Iniziando a ver Son Con lo cual Teb Escúchame Has puesto En YouTube Gaming Lo tienes Si Esa es una opción También Ah Hace poco Hace poco Pero Si Yo te recomendaría eso Porque a mi ayer Cuando lo intentaba mirar No me iba bien Y me fue el game Y me fue el game Y yo perfecto Pero me está costipándome Y todo Ah, ok, ok, ok Si Prueba ¿Cómo coche un like? Si quieres Dos galletas de fresa Da Y pídemelas Hoy El hashtag De Loli Es Hashtag Lifehacks Con Loli Con Loli El de la Nintendo Loli no funciona Te lo digo ya El que has escrito antes Que lo leído Ok, no Ahora son stanco Magari domani Ok, ok Tranquilo Tranquilo Frank Buah Buah Ah Normal Normal Hai visto? Normal Perché? Madre di Dio Madre mia Si Si, cosa facciamo Anche noi Si En breve breve Si, casi si No No, yo direi Di veramente Di abbandonare Son veramente stanco Si, adios Carl Buongiorno 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 L'ultimo dottore è davvero fatta, davvero, davvero fatta, quindi è meglio per tutti gli altri che inizio a dire buongiorno e giochiamo domani per sicuramente. Sì. Live Gamer Family, Ego DJs, sì, ragazzi, sorry, sorry, I'm really, really tired, trust in me, tomorrow will be a good day for stream, so madness, thank you so much, huh? Yeah, bye guys. Loli? Loli? No, Frank credo di no. Cosa? Loli? Non sfalta una cosa, Loli? E ricordate il nostro motto, non ci riesci con le mani? Allora tenta coi tentacoli, ciao! Bye bye! Dove è il tasto per chiudere sta merda qua? Come si chiude? Dove?